Parliamo con i giovani dei tumori. Si tratta del progetto Martina, promosso a Gela dalla Lions Club del Golfo, preseduto da Eugenio Piazza. Incontro nell'aula magna della Liceo delle Scienze Umane Dante Alighieri. Il progetto, che coinvolge ogni anno circa 150.000 studenti italiani, ha come obiettivo quello di portare a conoscenza dei giovani che oggi è possibile evitare molti tumori ed aumentare la probabilità di guarigione con la conoscenza e l'applicazione di semplici accorgimenti. Quando parliamo di prevenzione dobbiamo necessariamente riferirci innanzitutto ai giovani? Soprattutto ai giovani, perché la prevenzione fatta in età adolescenziale o comunque in età giovanile si accertezza e è la reale prevenzione. Cioè quella che evita l'insorgenza purtroppo in età più avanzata, evitando quindi che poi diventi più difficile poter intervenire. Ed è bene diffondere questa cultura tra i giovani perché la prevenzione è soprattutto un fatto culturale più che sanitario. Bisogna che ci si convinca dell'utilità della prevenzione. Che tra l'altro oltre che prevenire la salute, la salvaguardia della salute, serve a prevenire anche quelli che sono problemi di carattere sociale. Perché il costo sociale nel dovere curare ciò che è possibile invece stroncare al sorgere è un fatto molto importante. E l'è mai capitato di salvare la vita a qualcuno grazie a questi incontri? Sì, questi incontri abbiamo sperimentato ormai in questi anni che sono importantissimi. Importantissimi perché vediamo che i ragazzi sono molto attenti alla prevenzione e soprattutto ricordarlo è importante. Se noi diciamo solo che un tumore ad esempio della mammella da un millimetro a un centimetro impiega dieci anni. E noi abbiamo purtroppo sperimentato di giovane donne di 26 anni con tumore alla mammella. E' importante in questi anni cominciare a ricordare alle donne che esiste la prevenzione. E noi facendo la prevenzione, come mi è stato detto precedentemente, possiamo veramente salvare le vite. Perché un tumore scoperto al di sotto di un centimetro può veramente far guarire la donna. Grazie. Grazie. Grazie.